Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video ti spiego come è utile GamesGo.pro che è un'ottima piattaforma per risparmiare su parecchie piattaforme streaming e soprattutto anche su piattaforme per ascoltare musica come Spotify ovviamente questi sono i clienti che ho portato fino ad adesso sulla piattaforma e l'ultimo cliente, ovviamente un buon cliente, ha comprato Netflix per 12 mesi ha soli 34,37€ però non ha usato il codice sconto e vabbè non fa niente però se usi il codice sconto questo qua sullo schermo risparmierai anche un sacco quindi in questo caso se compri Netflix per un anno, cioè per un anno 32,34€ oppure 30€ dipende anche dallo sconto quindi in questo caso ed è veramente un prezzo incredibile veramente è una cosa veramente fenomenale quindi in questo caso non solo puoi comprare Netflix ma puoi prendere altre piattaforme streaming come Disney+, Paramount+, come puoi vedere in alto a destra ho fatto un video in passato su come compro, come acquisto Paramount+, e più faccio il login, quindi in questo caso tu compri su GammsGo, ti danno un account via email quindi basta che clicchi il link di affiliato sotto al video in descrizione, più metti il codice sconto ti consiglio anche di guardare questo video di Paramount+, dove io lo compro e faccio pure il login e direttamente io ho guardato Paramount per un mese però in questo caso esco dal mio account affiliato ti faccio vedere una cosa faccio l'accesso andiamo vado sul mio account personale eccolo qua vado su abbonamento ho l'account che tra 55 giorni scade ho ancora un account di Netflix stava a 120 giorni avevo comprato anche Disney e Paramount+, tutto nei vecchi video che troverai in alto a destra nelle schede oppure se entri nel server Discord puoi contattare direttamente a me quindi in questo caso puoi parlare con me se hai problemi o se ti serve qualcos'altro quindi se entri nel server Discord troverai anche un canale a parte dove in quel canale c'è veramente tutto tutti e alcuni video dove mostro quanto costa Disney, Spotify, il link affiliato, il codice sconto, tutto quindi in questo caso se veramente ti fa comodo risparmiare su queste piattaforme che ti piace tanto guardare serie tv, film e ascoltare musica ti consiglio Gamsgo.pro un ottimo servizio quindi grazie a tutti per questa visione per problemi commenta per problemi ancora di più o per maggiori info entro nel server Discord tutto in descrizione e mi contatti in privato quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao